Ciao a tutti ragazzi, pensavate che vi risparmiamo dal video giornaliero? Ancora non ce la faccio via staccarmi da YouTube per più di un giorno, non ce la faccio, non ce la faccio. Intanto buona Pasqua, anche se ho un po' in ritardo, sono le 11.20, quindi buona Pasquetta. Qua non si fa una sega domani se sta a casa perché lui non si fa niente, paganza non si fa niente, quindi passatela bene voi. E poi perché sto video? Perché grazie! Come perché sto video? Siamo 449 persone fino a due secondi fa, ma che se deve fare? Grazie! Ma è fantastico, 449 in una settimana, un numero enorme, uno strabotto micidiale, c'è un video che è stato visto 4.000 volte, ma è pazzesco! Io sono felicissimo, io non cammino per casa, salto, io zompetto, la mia ragazza mi prende per credenza e dice che cazzo fa, io salto, non ci posso fare niente. Quindi visto che siamo a 449 e mancano 51 persone, 51 persone per arrivare a questa cifra qui, che non la settimana, levati! Sto a parlare, levati! Visto che rimane poco ad arrivare a quella cifra lì, che succede? Che non appena ci arriviamo facciamo un giochino. Ora, non so come, non so come funzionano, non so come se fa perché non ne ho idea, so che gli altri lo fanno, ne ho visti, non ho mai partecipato, ma le ho visti, quindi so che se può fa. E voi sapete più o meno come se fa, quindi adesso mi informo e lo facciamo. E una volta che facciamo sto giochino, che cosa ve regalo? Questa! Ve lo giuro che la regalo. Questa qui l'ho appena ordinata. E quindi ve la regalo. C'è tutto il cuore. Ci sarà qualcuno, una persona, non si è presa solo una, una persona vincerà questa! Ve regalo una DeLorean, ve lo giuro. Questa qua che si illumina tutta, si illumina per davvero, c'è scritto nel sito che si illumina per davvero, fa tutte le lucine, le cose, sicuramente farà pure i rumorini, non lo so, l'ho appena ordinata, arriverà fra una settimana. Quindi grazie ancora infinitamente tanto. E non appena arriviamo a 500, vi farò sapere che caspita di gioco facciamo, facciamo un giochino perché vi devo troppo ringraziare. Un numero enorme in una settimana è una cosa da festeggiare. Bene, grazie a tutti ragazzi ancora, buona Pasquetta un'altra volta e ci vediamo presto. Ciao, buonanotte!